Si svolgeranno a fine maggio le elezioni amministrative in Sicilia. La Giunta lo aveva già deciso il 2 febbraio e la conferma all'unanimità è arrivata dal governo Schifani nella seduta di oggi pomeriggio, si legge nel comunicato di lunedì 27 febbraio. Nei 129 comuni siciliani in cui i cittadini potranno esprimere il proprio voto, ci si potrà recare alle urne domenica 28 maggio dalle ore 7 alle 23 e lunedì 29 maggio dalle 7 alle 15, prevedendo anche un eventuale turno di ballottaggio nelle giornate dell'11 e 12 giugno. In 15 comuni si voterà con il sistema proporzionale e maggioritario in 114. L'inserimento di eventuali nuovi comuni, si legge ancora, potrà avvenire entro la data di indizione dei comizi elettorali, prevista con decreto dell'assessore alle autonomie locali tra il 60esimo 29 marzo e il 55esimo 3 aprile, giorno antecedente alle votazioni.